Bruxelles bacchetta l'Italia sul bilancio. Il commissario all'economia, Pier Moscovici, ha presentato il pacchetto d'autunno del semestre europeo. E fra i paesi soggetti alle regole del patto di stabilità e di crescita, l'Italia si trova nel gruppo dei meno affidabili. Ci sono cinque paesi, Belgio, Italia, Austria, Portogallo e Slovenia, di cui consideriamo che i progetti di bilancio presentino un rischio di non conformità agli obblighi del patto per il 2018. L'Italia è poi un caso a parte. Il persistere dell'elevato livello di debito pubblico è motivo di preoccupazione, dice la Commissione, che in una lettera comunica di voler procedere in primavera a una nuova valutazione della conformità dell'Italia al parametro per la riduzione del debito.